Diciamo che sei una persona social, ti piace la competizione ma soprattutto ami vincere bellissimi premio, abbiamo l'applicazione giusto per te, Star Bites Opinion Leads, scaricala gratuitamente sul tuo cellulare, accedi col tuo account Facebook e scegli le categorie che ti interessano di più, all'interno troverai delle social mission proposte dai vari brand, come visualizzazioni, condivisioni, like e commenti ai vari contenuti. Grazie